we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi vi faccio vedere la soluzione della sfida più noiosa di queste di questa settimana numero 7 quella di visitare i cinque accampamenti di sky ora non ricordo se la sfida ne chiede tre o ne chieda di meno il primo ragazzi è quello che si trova nel quadrato di 8 e quindi come vedete qua c'è un accampamento ci mettiamo qua se si toglie questo cavaliere nero mi fa un cazzo di favore te ne puoi andare fuori franci grazie mille e come vedete ragazzi il primo è fatto quanto riguarda invece la seconda location dell'accampamento di sky dovete raggiungere la casella a 3 una volta raggiunta praticamente siamo dietro al castello di roccato lo state già vedendo ragazzi qua davanti a me c'è il secondo accampamento e quindi una volta atterrati potrete farlo accampamento numero 2 fatto quanto riguarda invece la location numero 3 dobbiamo raggiungere la casella di 1 come vedete dove siamo praticamente vicino al faro lo state già intravedendo basterà scendere e sotto il grande albero troveremo un nuovo accampamento di sky e quindi accampamento numero 3 fatto per quanto riguarda invece l'accampamento numero 4 il penultimo dobbiamo andare come vedete alla destra di foschi fumaioli nel quadrato h2 raggiungendo infatti la parte finale ed esattamente qua sulla piccola spiaggetta riusciremo a completare anche la quarta posizione e quindi accampamento numero 4 fatto e siamo finalmente arrivati ragazzi alla location numero 5 per completare questa sfida degli accampamenti di sky dobbiamo invece raggiungere la casella h7 come vedete siamo proprio all'esterno a bordo mappa e se ci abbassiamo stiamo già notando che l'accampamento oddio no non potrebbe essere questo ma secondo me invece è questo beh voi nel dubbio scendete prima a questo che dovrebbe essere quello giusto quindi accampamento numero 5 completato vi faccio rivedere siamo proprio nella parte bassa della mappa io vi ringrazio per avere guardato anche questo video vi ricordo che ce ne sono molti altri sul canale dedicati alle sfide di oggi e delle altre settimane mi trovate in live su twitch noi ci vediamo presto anzi noi ci vediamo di là ciao 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 ciao